Viveremo a lungo abbastanza per vedere come finiranno i rapporti economici tra Stati Uniti e Cina. I cinesi li stanno spendendo molto a livello di spese militari. Sono Franco Velonà della Fondazione Ugo Lamalfa. Come lei sa c'erano importanti programmi di conversione dell'uranio altamente arricchito nelle testate nucleari per passare invece all'utilizzazione di uso pacifico di uranio meno arricchito. Il disastro di Fukushima e l'inevitabile riduzione dei programmi di nuove centrali nucleari può avere un feedback negativo su questo processo che avrebbe certamente trovato molto più spazio se ci fosse stata una maggiore sicurezza nel recente passato. Mirko Montuori rappresento l'organizzazione Mayors for Peace che è un network di oltre 5.000 sindaci che rappresentano un miliardo di cittadini. Ho apprezzato particolarmente anche io il punto riguardante il ruolo dell'Europa e lo sforzo di multilateralizzazione della lotta alle armi nucleari. In particolare ritengo che il punto fondamentale sia quello della leadership politica che è un punto su cui davvero anche in Italia possiamo lavorare molto. L'onorevole Lamalfa, l'onorevole Morgherini e una serie di altri nostri rappresentanti sono molto attivi in questo settore. Vorremmo anche come organizzazione di sindaci che la volontà politica nel discutere questi temi sia sempre maggiore. Tra l'altro vorrei spezzare anche una lancia in favore dello sforzo dello European Leadership Network perché ritengo che non sia uno sforzo in vano e soprattutto uno sforzo che è supportato da altri rappresentanti delle forze armate inglesi incluso quel Robert Greene, ex comandante dell'esercito dell'aviazione, anzi dell'Inghilterra che ha scritto Security Without Nuclear Deterrence che è uno dei testi da cui potremmo ripartire. Si è citato per esempio l'OPED della Gang of Four, si è citato il discorso di Obama a Praga, il nuovo trattato SART. Altre cose da cui potremmo ripartire sono certamente il successo del CTBTO che è un'organizzazione il cui trattato non è ancora stato ratificato. Per esempio in questo l'Europa potrebbe riprendere un ruolo importante e il successo del CTBTO è fondamentale nella lotta a questo tipo terribile di armi. Infine volevo capire qual è lo stato attuale della rappresentanza italiana all'interno del gruppo che le rappresenta e se ci sono programmi per ampliare questo gruppo di persone che noi tutti ci auguriamo che possa avere successo. Grazie, per lei adesso. Grazie, Paolo Cotta Rammusino, segretario del Pagwash. Un po' è venuto fuori nella discussione qui il senso che il trattato di non proliferazione è un trattato ineguale, discriminatorio. E se il riferimento all'Iraq, all'Iran, eccetera, se questa discriminazione viene intensificata, cioè si rende la discriminazione più difficile e più pesante, si mette in rischio la stabilità del trattato di non proliferazione. Perché il trattato di non proliferazione è stato straordinariamente efficace, visti i limiti con cui era partito. Se noi sistematicamente distinguiamo tra cattivi proliferatori e buoni proliferatori, Israele è un buon proliferatore. Iran, che non ha un proliferatore per niente attualmente, non ha le armi nucleari, però è tendenzialmente cattivo. La North Korea è certamente cattiva, il Pakistan è cattivo e l'India è buona in questa visione del mondo. Perché nell'India in particolare c'è stato questo trattato con gli Stati Uniti sulla gestione del nucleare in comune. Il punto è, e volevo sapere cosa pensa Des Brown, è che occorre, se vogliamo rafforzare il disarmo a livello globale, impedire che le questioni politiche e le visioni politiche rendano il trattato di non proliferazione più discriminatorio di quello che è già. E ultima cosa che volevo dire, sull'Iran, è chiarissimo come l'Iran potrebbe diventare un problema nucleare. Basta che la partecipazione dell'Iran al trattato di non proliferazione, che attualmente esiste e è in funzione, viene messa in crisi dal fatto che a un certo punto qualcuno decide di attaccare le installazioni nucleari civili dell'Iran. A questo punto l'Iran uscirebbe dal trattato di non proliferazione come un effetto a catena. Quindi abbiamo un esempio molto concreto di esagerazione della discriminazione che potrebbe portare al fallimento del trattato di non proliferazione. Vorrei fare una verifica, c'è ancora una richiesta di intervento, ce ne sono altri? Allora diamo la parola e chiudiamo gli interventi. Grazie mille, mi chiamo Pietro Scuricini. La mia domanda è molto pragmatica. I trattati di non proliferazione hanno avuto origine alla fine degli anni Ottanta e durante gli anni Novanta, come noto, il Conventional Forces in Europe, il Cooperation and Security Building Measures, il Global Exchange of Military Information, etc., tra cui c'era anche l'INF, cioè Foreign Nuclear Forces. Tutti questi trattati si sono praticamente arenati quando si è rivelato l'enorme denaro necessario per la distruzione degli armamenti e la mancanza di volontà dopo l'entusiasmo iniziale da parte dei Paesi di allocare risorse per questo e soprattutto anche di scambiare le informazioni sui propri armamenti che erano invece alla base di questi trattati di non proliferazione. A suo avviso, Lord Brown, lei pensa che anche per il trattato di non proliferazione nucleare l'impatto economico sia di tale rilevanza, soprattutto in un momento di crisi internazionale economica come questo? Lei anche pensa che i Paesi saranno disposti a scambiare informazioni tra di loro per arrivare al disarmamento o quantomeno a una riduzione della proliferazione delle armi? Grazie mille, grazie per la sua presentazione molto omnicomprensiva. Molte grazie Presidente, sono consapevole che c'è poco tempo e quando si vede la gente che se ne va si capisce che la cena comincia a diventare una considerazione importante oppure si è troppo fatto per esaurire la pazienza. Sarei tentato di dire che sono d'accordo con tutti. Vorrei dire, Franco, in primo luogo sei assolutamente ragione. Forse dovremmo affrontare gli utilizzi possibili per l'urianio altamente arricchito in un modo più a lungo termine. Se c'è un rallentamento della costruzione delle centrali nucleari potrebbe di per sé essere una cosa buona. Non ho abbastanza conoscenze in questo campo per sapere quali saranno le conseguenze globali dell'incidente di Fukushima. Credo che dobbiamo affrontare questa questione del materiale per armi e nenti da due direzioni diverse. Dobbiamo bloccarli nella produzione e per avere delle prospettive di successo in questi trattati dobbiamo affrontare l'aspetto che sta al cuore della questione della simmetria di cui ha parlato Paolo. Il Pakistan presenta un ragionamento credibile almeno a livello retorico che vengono trattati in modo diverso e altri stati sono in una posizione più forte e soprattutto i loro vicini all'India e loro non riescono a arrivare a una posizione di forza analoga. Non è mai facile affrontare queste questioni. Quindi è molto importante il CBTO, il trattato sul cut-off e anche la ratifica. Per la ratifica la chiave è costituita agli Stati Uniti e la chiave è la costituzione del loro congresso perché il problema sta nella Camera dei rappresentanti e nel Senato degli Stati Uniti. Quello che ha detto riguardo ai materiali per armamenti è molto importante, però se ne blocchiamo la produzione avremo comunque una migliore possibilità di convertire quello che abbiamo già e conoscere almeno il grado di problema che abbiamo. Quello che ha detto sulla leadership politica sono molto contento di quello che ha detto che è la ragione per cui faccio quello che faccio. Credo molto alla leadership politica. La risposta alla sua domanda, non ai commenti che ha formulato, è che lo stato di leadership in Italia che abbiamo attualmente è che c'è un miglioramento. Le cose stanno migliorando e nei prossimi giorni insieme a Giorgio cercherò di incoraggiare più persone a partecipare a questa rete in modo da portare anche il contributo della loro esperienza. Ci sono due cose che voglio aggiungere. Questa non funzionerà a meno che non facciamo tre cose. In primo luogo abbiamo bisogno di persone che capiscono questo settore della politica, persone che sono dei veri leader e saranno dei parlamentari, in alcuni Stati europei potranno essere degli studiosi e altrove perché abbiamo chiaramente una situazione eterogenea e ci sono alcuni paesi in Europa che sono in uno stadio di evoluzione diverso per quanto riguarda il sistema di governo. Quindi non vogliamo definire chi sono i leader, che cosa è la leadership, ma dobbiamo trovare queste persone e dobbiamo avere delle persone che vogliono non solo vivere nel mondo senza armi lucrarie, ma che vogliono anche fare qualcosa perché questo si avveri. Quindi vogliamo un gruppo di persone che vogliono fare qualcosa e dobbiamo cercare di impegnare le persone che sono qualcosa adesso. Noi siamo adesso soprattutto le persone che sono stati leader in passato. Vogliamo anche attraverso persone che sono attivamente dei leader adesso, ma dobbiamo anche individuare le persone che saranno dei leader in futuro. E quindi la grande sfida è di individuare le persone che saranno dei leader futuri e dà le loro conoscenze che abbiamo noi perché abbiamo vissuto la guerra a freddo, perché abbiamo già vissuto questi problemi, perché possano avere la capacità di affrontare i tecnocrati e averla vinta sulle questioni degli armamenti. Altrimenti non lasceremo nessun dretaggio. Come dice Obama, non si potrà risolvere le questioni durante la nostra vita, ma possiamo cercare di dare alla prossima generazione il progresso. Quindi vi chiedo di aiutarci a individuare le persone che faranno queste decisioni in futuro, in modo che possiamo individuare queste persone, in modo che possiamo dare loro la fiducia, la capacità di affrontare questo settore molto difficile dal punto di vista tecnico. E infine Paolo? No, non è infine perché c'è la domanda riguardo all'effetto finanziario. Paolo hai ragione, abbiamo un trattato asimmetrico che discrimina e discriminatoria, io uso la parola asimmetrico, tu parli discriminatorio, ma è la stessa cosa. Però funziona e ogni cinque anni circa abbiamo il terrore che possa smettere di funzionare, perché le persone che sono dalla parte sbagliata di queste esimetrie diranno noi non abbiamo un accordo giusto e voi non ci date nulla. Quindi ha ragione che per rendere le cose peggiori per queste persone non è una cosa intelligente, ma non dobbiamo dare neanche loro il permesso di comportarsi in violazione del trattato. Quindi bisogna che tutti rispettino, è molto importante che anche i P5 rispettino il trattato, ma questo lo possiamo fare solo rafforzando il trattato, coinvolgendo tutte le strutture di governo a livello internazionale, ma soprattutto vuol dire riconoscere quanto è importante conservare questo trattato. Questo lo facciamo a intervalli regolari ogni volta che abbiamo questo terrore sulla revisione, ogni cinque anni, e poi lo dimentichiamo, ma dobbiamo conservare questo progresso. Tu lo fai e ti congratulo per questo. Non siamo sempre d'accordo, ma continueremo a lavorare con te, Paguash, per cercare di raggiungere questo obiettivo. L'ultima domanda. Credo che smetteremo di investire in queste armi quando non potremo più permettercelo. e poi penseremo a come eliminarli. Credo che questo sia inaccettabile se vuol dire che spenderemo mille miliardi in più su questi armamenti nei prossimi anni. Non possiamo chiedere questo ai nostri popoli. Anche coloro che sostengono questi armamenti sperano che mai vengano utilizzati. Ha ragione che se non riusciamo a generare una trasparenza, una fiducia riguardo a quello che facciamo e come gestiamo questi armamenti non ci sarà nessuna possibilità di ridurli. Ci sono delle cose interessanti. Attualmente in corso gli incontri dai P5 sono stato molto importante. La trasparenza tra questi paesi è essenziale. L'iniziativa Regno Unito Norvegia che è stata organizzata come ministro per cercare di organizzare un sistema per cui gli stati non nucleari potevano essere sicuri che gli stati nucleari si comportavano secondo i dettami del trattato. Ma sempre di più, e con questo concludo, ho la sensazione che quello che manca in tutta questa questione politica è la leadership politica. Spero che non arriveremo il prossimo decennio pentendoci di non aver sostenuto l'unico leader politico che abbiamo che vuole agire in questo senso, il Presidente Obama. Io non voglio solo le persone che applaudono, che dicono che è bello questo discorso, voglio che gli europei l'aiutino a raggiungere l'obiettivo che ha formulato. Non avendo per scarsa diligenza consultato la cartella che mi era stata data, mi era sfuggito di ringraziare tre illustri personaggi che hanno mandato un messaggio a questa udienza, il Presidente della Camera, Onorevole Fini, il Ministro della Difesa e il Governatore della Banca d'Italia Draghi. Il Presidente Fini, che domani incontrerà Lord Brown, non si è limitato a inviare dei semplici auguri di buon lavoro e salute all'udienza, ma ha sottolineato alcuni aspetti importanti del dibattito che abbiamo fatto, che io brevemente vi leggo. Parla di ricorrente è tentazione di dotarsi di armi di distruzione di massa e insiste sul fatto che questa minaccia deve convincere tutti i Paesi del mondo, a cominciare da quelli europei, come sottolineato da Lord Brown, della necessità di impegnarsi sempre più convintamente in una politica del disarmo realmente efficace, ispirata ad un modello di società dove le ragioni del dialogo, della diplomazia e dell'armoniosa cooperazione tra i popoli prevalgano sempre sulle feratezza della guerra e della violenza. Noi ringraziamo il Presidente della Camera ancora una volta per averci ospitato, ringrazio la Sala per aver condotto veramente un brillante dibattito che ha conseguito la ancora più brillante esposizione dei fatti che direi per un non addetto ai lavori come me mi ha tracciato un quadro molto chiaro per aver condotto sia la sua lezione che il dibattito sollecitato dalla Sala. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie 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 Grazie